Stani Verde, sindaco di Forio. Cosa emerge da questo incontro con tutti i sindaci dell'isola d'Ischia? Quali garanzie e qual è anche l'umore dopo aver parlato con l'Aggiunta? Innanzitutto emerge una volontà comune dei sei sindaci di affrontare il problema del turismo, di questa crisi turistica che ci sta investendo e di affrontarla tutti quanti insieme. Forse è la prima volta che i sindaci si recano qui in regione per parlare e condividere una strategia comune. Torniamo soddisfatti, però naturalmente, come diceva bene chi mi ha preceduto, adesso bisogna passare dalle parole ai fatti.